Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. È morto Paolo Graziosi, l'attore di teatro e cinema. Nato a Rimini nel 1940. È stato stroncato dal Covid. Graziosi è morto alle 7.58 di oggi 1 febbraio presso l'ospedale di San Bortolo di Vicenza. Lo fanno sapere i familiari con una nota. Che inoltre recita, vogliamo omaggiare l'artista insieme a tutte le persone che lo hanno conosciuto e amato. L'interprete ha combattuto e vinto una lunga battaglia contro il cancro ma è stato infine sconfitto dal coronavirus. Lascia la moglie Elisabetta Rosio. La figlia Viola. Nota attrice teatrale. E il figlio Davide. Molto amato dai grandi registi. In particolare da Marco Bellocchio e Francesco Rosi. La sua ultima interpretazione è stata nel film, Tre Piani, 2021, di Nanni Moretti. Ha recitato anche in, Nessuna qualità agli eroi, 2007, di Paolo Franchi. Il papà di Giovanna, 2008, di Pupi Avati. Il divo, 2008, di Paolo Sorrentino. Il giovane favoloso, 2014, di Mario Martone. Pinocchio, 2019, di Matteo Garrone. Sul piccolo schermo ha invece preso parte a diversi film e serie tv. Tra cui, il processo, 1978, distretto di polizia 11 minuti, 2011, 0 squadra antimafia 6 minuti, 2015, il commissario Montalbano 10 minuti, 2016, e, ognuno è perfetto, 2019.